Il mondo alternativo e che lo avete fatto nei miei confronti, sinceramente, grazie a voi. Cosa ne pensi della riuscita che vedi nell'immagine? Sono uguali, la vettinatura è uguale, le cosce sono uguali, sinceramente, l'avete fatto bellissimo. Grazie mille. Grazie a voi, sinceramente, un abbraccio forte e speriamo di continuare con questa iniziativa. Grazie a voi.